Forza Italia ancora assente in blocco tra i banchi del Consiglio Comunale di Como. Prosegue dunque la scelta dei forzisti di far sentire, appunto tramite la propria assenza, il dissenso nei confronti del sindaco Mario Landrescina, che non ha preso ancora nessuna decisione sul rimpasto tra le cariche a Palazzo Cernezzi. Unica controcorrente è Anna Veronelli, presidente del Consiglio Comunale, che ieri era regolarmente al suo posto. La seduta è andata avanti perché, in seconda convocazione, il numero minimo necessario di consiglieri si riduce. Se dunque è chiusa la discussione sul bilancio, fino a domani sarà possibile presentare eventuali ordini del giorno, se ne riparlerà lunedì prossimo. A rimarcare l'assenza di una parte importante della maggioranza sono stati ieri sera Alessandro Rapinese, capogruppo della lista Rapinese Sindaco, e Pierangela Torresani, Lega. Il primo ha parlato dei numeri e di una maggioranza spaccata, la seconda ha invitato alla compattezza e alla responsabilità.